ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad uno zenith zenith the fight extreme diver e già il nome lo cataloga lo caratterizza lo inserisce nella famiglia extreme di casa zenith ossia quella famiglia estremista diciamo per quanto riguarda prestazioni dimensioni e caratteristiche è uscito a watches and wonders di quest'anno del 2024 ad aprile ed è il nuovo diver di casa zenith assieme al the fight revival ecco sono i due nuovi diver di casa zenith la quale era almeno 20 anni se non di più che non aveva uno diver a catalogo cioè andavi cercavi guardavi il catalogo zenith e di diver non ce n'era per 20 anni almeno non so se poi sono 22 25 26 19 è un po di tempo che non c'erano e io attendevo con entusiasmo con trepidazione l'uscita di un diver di casa zenith e devo dire che in entrambi i casi sono due orologi completamente differenti ma sono sono rimasto deluso tra virgolette nel senso che non fanno per me né uno nell'altro nel revival di questo extreme chiaramente sono belli orologi sono di qualità a molte persone piaceranno ma io mi aspettavo anzi un diver un pochino più classico no addirittura non un rifacimento qualcosa di di ex novo e invece niente non c'è stato questo è un quasi ex novo nel senso che hanno utilizzato la cassa defy però extreme particolare bello mi piace l'ho preso perché mi piace lo voglio recensire perché mi piace perché so che ha delle caratteristiche invidiabili però non rientra momento tra quelli che comprerei no che dire sì adesso questo lo metto in collezione mi piacerebbe un zenith diver però mi piacerebbe avere uno zenith diver in collezione comunque non è questo non sarà questo però ve lo mostro perché con piacere l'ho preso dall'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale e che quindi mi mette a disposizione gli orologi ha chiaramente a voi fa un trattamento di favore vi invito a contattarlo contattarli perché vedrete che vi troverete sicuramente bene chiedere in giro per credere detto questo più dire di passare alla panna prima vi mostro l'orologio del giorno che è tutt'altro orologio proprio fascia di prezzo completamente differente è il mio orient maco 2 con quadrante blu cinturino nato blu aftermarket che ho messo io una cinesata che ho preso su amazon quindi niente di particolare l'orologio che però fa il suo lavoro fa il suo dovere fa il suo come si può dire e tra le altre cose è uno dei più precisi che ho in collezione da quando l'ho preso non l'ho mai fermato o lo indosso o lo utilizzo nella scatola del tempo e tiene l'orario alla perfezione cioè non sono stato a cronometrarlo al secondo ma se dopo due mesi è sempre al minuto allo stesso minuto dell'orologio digitale vuol dire che tiene il tempo bene no bravo 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 adesso giriamo la camera diamo lo sguardo allo zenith defy extreme diver e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali apriamo le danze cercando di definire le dimensioni dell'oggetto in questione diametro cassa 42.2 millimetri spessore 15.6 ingombro trasversale al polso 47.3 millimetri un orologio di presenza massiccio e strutturato un diver 600 metri che mette in mostra la sua essenza di tool watch senza compromessi o quasi perché sì è vero che l'aspetto tecnico è preponderante ma è anche vero che è pur sempre percepibile sotto traccia la classica eleganza del marchio zenith dimensionalmente parlando occorre sottolineare che il lag to lag è stato misurato alle estremità della cassa in quanto essendo un orologio a bracciale integrato non sono presenti le classiche ansie sporgenti inoltre il diametro di 42.2 è stato misurato alla cassa mentre la ghiera girevole misura 43.5 millimetri sono comunque parametri che non vanno a modificare il concetto di orologio strumento un millimetro in più o in meno poco influisce sulla presenza importante che vediamo al polso si tratta della tipica cassa ad fai che siamo ormai abituati a vedere in casa zenith qui abbiamo un titanio spazzolato con finiture delicate che ricalcano lo stile classico della casa devo dire che siamo arrivati ad un punto tale che il titanio non è quasi più riconoscibile al colpo d'occhio questo orologio potrebbe tranquillamente essere scambiato per un segnatempo in acciaio perlomeno finché non ne si appura fisicamente il contenuto peso va sottolineato che la lavorazione del titanio richiede utensili particolari e risulta più difficoltosa rispetto all'acciaio inox la sua bassa conducibilità termica rende molto difficile la dissipazione del calore che si forma per attrito durante il taglio o la lucidatura del materiale anziché dissiparsi questo si accumula infatti proprio vicino all'utensile di taglio o fresatura andando ad usurarlo ciò che quindi colpisce è la finezza della spazzolatura longitudinale e la perfetta lucentezza dei biselli di separazione il risultato è un accurato incrocio tra i vari piani inclinati che si intersecano tra loro formando angolazioni una diversa dall'altra e con differenti finiture superficiali questa è la parte sofisticata c'è poi quella più tecnica dal sapore quasi artigianale e che profuma di chiavi a brugola come le spallette di protezione corona piazzate lì con due viti a testa esagonale in pieno stile costruzione meccano tra l'altro evidenziano come non facciano parte del corpo cassa ma siano apposte in un secondo momento da notare anche la loro particolare sagoma che non è lasciata al caso ma riprende la forma dei biselli lucidi visti in precedenza oppure il fondello anch'esso fissato con quattro viti incontro tendenza al classico avvitamento integrale non si vede spesso un diver 600 metri con fondello in vetro in quanto esso stesso diventa il suo punto critico di rottura possiamo quindi notare il consistente spessore complessivo del fondello parte di questa quota è attribuibile al vetro zaffero posteriore che raggiunge sicuramente uno spessore importante per ovviare al punto critico prima esposto di certo è una scelta volta a mettere in mostra l'eccellente calibro realizzato da zenith ossia l'elprimero 3620 cs dove cs sta per secondi centrali sì perché il 3620 nasce per lo zenith the five skyline e i suoi piccoli secondi ad ore 9 mentre qui viene modificato per avere i secondi al centro proprio per questo motivo i rubini passano da 26 a 27 il rubino in più va a coprire l'aggiunta di una ruota che trasporta il moto verso il centro occorre poi ricordare che si tratta in entrambi i casi naturalmente della versione solo tempo del noto calibro cronografico elprimero e che quindi presenta la cosiddetta oscillazione ad alta frequenza ovvero 36.000 alternanze orarie infine come ultima notazione tecnica va aggiunto che sia la ruota scappamento che l'ancora sono realizzati in silicio monocristallino a magnetico è possibile notare la ruota in quanto pigmentata di un viola metallizzato ben riconoscibile un calibro di pregio realizzato in house da zenith che presenta una finitura moderna e contemporanea per la maggior parte si tratta di elementi sabbiati o con satinature longitudinali non vi è alcun tipo di abbellimento classico tradizionale quali potrebbero essere perlage o cot de geneve non sarebbero consone ad un orologio così sportivo qui è tutto piuttosto spartano ed in linea con lo spirito dell'orologio come se vince anche dalla stessa massa oscillante realizzata forma di stella con l'estremità periferica del rotore in pesante tungsteno ma ruotiamo adesso l'orologio e passiamo alla toa la prima particolarità da segnalare è rappresentata dal sistema ghiera girevole vetro solitamente sono questi due elementi presenti in un diver qui è invece ben visibile un terzo elemento che si frappone tra i due ossia una lunetta dodecagonale le cui facce sono lucidate a specchio e la cui superficie piana orizzontale appare satinata verticalmente un piacevole effetto visivo che lascia trasparire anche qui come si sia voluto aggiungere qualche tocco di classe al fine di mitigare il massiccio aspetto da tool watch la conseguenza è che la rotazione della ghiera avviene attorno alla lunetta che rimane fissa e solidale al vetro zaffero tecnicamente parlando si tratta di una ghiera in ceramica antigraffio realizzata in un pezzo unico lo si evince anche dalla colorazione nera presente su ogni lato unidirezionale a 120 scatti si mostra facilmente impugnabile e con una rotazione fluida precisa e percettibilmente di qualità da questa parte poi il vetro zaffero con doppio trattamento antiriflesso completamente piatto e da filo con la lunetta tutte caratteristiche che unite all'eccellente contrasto degli accenti rende ineccepibile la leggibilità del quadrante ogni elemento presente appare come sovradimensionato o per meglio dire correttamente dimensionato alle misure generose di questo diver le sfere presentano un design particolare ed originale scheletrate nella prima metà e per contrasto molto larghe e ben visibili nella seconda metà che tra l'altro è riempita di superluminova figuratevi che alla loro massima quota vanno non solo a coprire la larghezza degli indici ma a strabordarli leggermente indici che sono già di per sé piuttosto larghi tutto ciò lascia intendere lo sforzo dedicato a renderlo un orologio ben leggibile in ogni situazione merito anche del fondo quadrante che pur essendo opaco e privo di riflessi non rinuncia al vezzo di mettere mostra una trama a cielo stellato con incisioni vedo non vedo un pattern già visto sui defy skyline ma che qui viene ingrandito proprio per rimanere proporzionale alle dimensioni generali nella sua globalità si tratta di un quadrante che mostra una miriade di piccole particolarità che nell'insieme lo rendono interessante da studiare il gioco cromatico ottenuto tramite l'utilizzo dell'arancione fluo non è da lasciare in secondo piano specie per il rio segmentato che ci viene mostrato come fosse uno scalino periferico a se istante contribuisce anche ad aumentare la percezione di tridimensionalità assieme agli indici applicati e alla stellina d'ore 12 lucida in rilievo e sempre ben disposta a farsi ammirare stellina che viene poi ripresa stilizzata e posta come contrappeso sull'estremità corta della sfera secondi certo è quasi invisibile ad occhio nudo ma c'è al contrario è veramente molto presente il marker posto sull'estremità opposta tanto per dimostrare quanto possa essere importante accertarsi del corretto funzionamento al primo sguardo poteva poi un simile quadrante essere insensibile ed inerte al buio certo che no infatti in assenza di luce mette in mostra una invidiabile reattività ogni elemento sul quadrante risponde mettendo la corretta luminescenza che appare anche duratura nel tempo la sfera dei secondi ci indica che l'orologio sta funzionando mentre quella dei minuti risulta pigmentata in celeste esattamente come il marker presente sulla ghiera questo ci consente di effettuare quell'accoppiamento visuale necessario a monitorare i minuti trascorsi dal inizio dell'evento promossissimo non rimane che parlare del bracciale e qui occorre dividere in tre paragrafi sì perché nella scatola sono presenti ben tre alternative in primis il bracciale in titanio spazzolato longitudinalmente con smussature lucide sia ai lati che nelle maglie centrali rappresenta la più canonica espressione dell'orologio a bracciale integrato da segnalare che queste ultime sono fissate tramite l'utilizzo dei classici perni a vite e che la chiusura è a farfalla senza quindi la possibilità di regolazione fine troviamo poi un cinturino in caociu dotato di deployant completa di fibbia e ardiglione alquanto morbido e soprattutto comodo in quanto presenta sì un accattivante trama in rilievo sull'esterno ma la parte interna risulta essere liscia e ben aderente al polso c'è poi la terza opzione ossia un cinturino nato eco friendly in quanto realizzato utilizzando la plastica delle reti da pesca recuperate in mare e qui si apre una parentesi come è possibile montare un cinturino nato su di un orologio a bracciale integrato l'interscambio tra i tre cinturini avviene in maniera semplice e veloce in quanto l'orologio è dotato di un sistema sgancio rapido proprietario basta premere la levetta e bracciale si sgancia ancora più semplice il reinserimento in quanto non occorre attivare alcunché basta inserire bracciale nei fori e il gioco è fatto ecco che per utilizzare il nato entrano in campo i due finali aggiuntivi in dotazione si montano nei fori del bracciale e a quel punto è possibile far passare il cinturino nato nelle anse passanti ed utilizzarlo come se fosse un cinturino nato qualsiasi ottima trovata possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali al momento questo orologio che abbiamo anche qua eccolo qua simpaticissimo c'è in questa configurazione nera e nella configurazione blu che è altrettanto se non di più accattivante perché il blu e l'arancione insieme spaccano poi con i cinturini ecco parliamo dei cinturini gli unici punti deboli di questo orologio che ha solamente pregi è solamente pregi perché è veramente un orologio come dire eccellente va bene eccellente gli unici punti deboli si trovano nella parte nella parte del bracciale la chiusura farfalla ecco è un punto debole perché un orologio così tecnico così diver così tool watch titanio 600 metri valvola dell'elio e poi gli metti la chiusura farfalla che è elegante bellissimo tutto quello che vuoi ma gli avrei visto bene una scatoletta di quelle con la regolazione fine ingegnerizzata o al limite anche la prolunga per la muta per gli indumenti esterni no facciamo un orologio tecnico finiamolo di fare sto orologio tecnico no hanno preferito farlo classico andare più sull'elegante no come detto le bisellature le finiture sono classiche eleganti hanno voluto completare con la chiusura farfalla che secondo me però non è proprio il massimo il massimo poi c'è il discorso va bene del quando quando si incomincia a parlare di per forza no sentirsi obbligati ad essere politically correct ed essere eco sostenibili a me mi viene sempre il prurito no il cinturino nato fatto con la plastica riciclata dalle reti dei pescatori ora voglio dire no vabbè è viva e viva e viva ma anche se non lo facciamo cioè preoccupiamoci di delle cose di tutti i giorni modi piuttosto che sbandierare i quadranti infatti con le bottiglie di plastica sempre plastica è perché la fondi no vabbè utilizzi quella delle reti bravi però mi sembra mi sembra una cosa eco sostenibile friendly per forza hai capito detto questo il sistema di sgancio rapido di zenith è qualcosa di eccezionale ragazzi perché ci ho messo un attimino a capirlo perché all'inizio sono andato in crisi perché perché pensavo che la levetta fosse parte integrante del bracciale quindi schiacciavo la levetta e cercavo di portare via la levetta invece la levetta fa parte della cassa premi la levetta e il bracciale viene via in un attimo a rimetterlo lo rimetti in un attimo veramente fatto bene fatto bene con poi quelle ansie aggiuntive per mettere il nato quelle tanta roba cioè va bene che il prezzo è elevato sono dei bei soldoni però ci hanno messo anche delle cose dentro che fanno fanno piacere puoi utilizzare il nato anche se ecco si può utilizzare nato perché essendo in titanio è leggero e la testa non va a sballonzolare in qua in là è leggero ma è presente questo probabilmente è l'orologio che mi fa avvicinare che mi fa pacificare con il titanio perché è leggero cioè se io sta col bracciale lo sento che è una piuma ma nel complesso è presente cioè c'è una certa presenza perché come orologio se fosse stato in acciaio sarebbe stato pesantissimo in realtà il titanio lo va alleggerire ma alleggerire trasformandolo in un orologio dal peso normale cioè indossabile che lo senti al polso e questo mi fa piacere poi per il resto guardate punti negativi io non ne saprei indicare la qualità l'avete vista leggibilità c'è al buio fa paura fa paura al buio attenzione che quando illuminate con la torcia uv si illumina anche il rio arancione cosa che poi dopo non restituisce la luminescenza ma lì per lì si illumina anche lui veramente sembra una park da tanto che che è luminescente ottimo orologio la valvola dell'elio ci è utile a tutti noi sul divano non possiamo fare a meno della valvola dell'elio e per il resto è promosso promosso anche perché per quello che costano però avete un orologio tecnico uno di quelli da andare in barca a fare la gita in barca andare nei posti al mare ma nei posti in no dovrete avere un orologio figo costoso di pregio per fare lo sborons però senza farlo sapere agli altri perché nessuno lo sa dice lo riconosce no se ci vai col submariner tutti ci vai con lo zenith the five extreme diver che costa 12 mila euro nessuno lo sa ma te stai bene con te stesso perché c'è un orologio di pregio dal calibro fino alle finiture di più non si può dire ragazzi io ve l'ho dimostrato ve l'ho fatto vedere come diceva rocco sifredi no più di così non posso fare poi siete voi che decidete se gli ingredienti sono di vostro gusto se li hanno amalgamati bene se la ricetta ha portato a compimento un piatto decente o meno questo lo dovete decidere voi chiaramente la prova al polso poi quella definitiva ma ricordatevi che l'amico giacomo c'è il prezzo migliore di tutti e questo lo dico qua e lo nego grazie per essere arrivati fino qua aver guardato il video spero vi siano piaciuti gli orologi che abbiamo mostrato questo qua da 300 euro questo qua da 12 mila euro si va dall'estremo all'altro e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love il video spero vi siano piaciuti gli appuntamenti fisiche come sempre